Amici in visione, Buongiorno, bentrovati appuntamento di giovedì 7 dicembre 2017 con Mattino 6, la nostra consueta e quotidiana rassegna stampa per la lettura dei giornali. Partiamo come sempre con i quotidiani abruzzesi, le prime pagine del centro, apriamo con la prima pagina del centro, edizione di Pescara, si parla dei controlli antisismici nelle scuole cittadine nuove scosse, vedete il titolo, controlli in 15 scuole, il comune di Pescara intensifica le verifiche antisismiche, spenderà 300 mila euro, questo è il titolo di apertura. Vediamo anche in alto, notizie di respiro regionale, verso il ponte dell'Immacolata riparte in Abruzzo, la stagione sciistica, ecco le cose da sapere nelle due pagine interne del centro, dunque si parla dell'inizio del periodo dedicato, più amato agli amanti dello sci, e poi autostrade abruzzesi senza fondi, lavori fermi, e poi tasse e tributi, spesometro, IVA e studenti, tutte le novità del fisco del 2018. E poi andiamo a centro pagina, la fotonotizia riguarda l'aeroporto d'Abruzzo, per il secondo giorno consecutivo, voli ancora in ritardo per il ghiaccio sullo scalo pescarese, e poi le cronache, Francavilla, scontro sulla gestione, piscina lite senza fine, arrivano i carabinieri, e poi università d'annunzio in lutto, per l'addio al docente Sorgi, scomparso per un malore. E poi Pescara Vecchia, siamo nella zona del centro storico del capoluogo adriatico, cambia la pavimentazione. E poi la vicenda Megalo II, un doppio no, Regione e Comune di Chieti chiedono di bloccare i lavori. Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Teramo, il titolo principale riguarda la cronaca, sesso in cambio di droga, processo rinviato a giudizio un settantenni, accusato di spaccio e di violenza su madre e figlia. E poi la storica macelleria teramana, chiude dopo 48 anni di attività, macelleria di Fefe Pecorale. E poi come detto, lutto nel mondo accademico abruzzese, per la scomparsa di due importanti docenti, abbiamo visto sull'edizione di Pescara, la scomparsa del professor Sogge, poi anche la scomparsa, la morte di Dante Di Giammartino, che è scomparso nel reparto, che aveva diretto fino a poco tempo fa, all'ospedale Mazzini di Teramo. E poi coltivava piante in casa, ma arrivano a per curarsi, prosciolto un teramano. E poi la politica, la caduta della giunta Brucchia a Teramo, parla l'esponente politico teramano Tancredi, che dice Gatti non è un traditore. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro, edizione di Chieti Lanciano Vasto, indagati 52 furbetti del bollo auto, sfruttano i parenti disabili morti, per non pagare multe per 170 mila euro, e denunce. E poi case di riposo di Chieti, istituti riuniti, dimezzati i debiti in due anni, a vasto racket delle estorsioni, condanne per 23 anni, poi a Tessa sia il congetto di notte, operaio Sevel, riassunto, e poi il duplice omicidio dello scorso anno ad Ortona, la verità sul delitto, perizia in 40 giorni. Siamo alla prima pagina del centro, edizione di L'Aquila Avezzano Sulmona, uffici comunali nella sede IMPS, siamo all'Aquila, si parla della città del futuro, l'istituto Lasce Viale Rendina, svelato il piano per le caserme, e poi il concorso letterario, premio Carusi a Celano, Alessia vince con i suoi Lincoln, e poi Avezzano, caos dopo il voto, inchiesta in municipio, sulle chiavi cambiate. L'Aquila arrestato per le botte alla compagna in Cinta, e poi alunni trasferiti, primo giorno di scuola con i MASP a Sulmona. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero, legge 104 tra furbetti e vittime, Maxi Truffa, a Chieti 52 denunce per l'esenzione del bollo auto, dovuta a parenti ormai defunti, sentenza pilota della Cassazione, poi reintegrato. Parliamo ovviamente di un altro argomento, in questo caso un operaio Sevele, licenziato per abuso dei permessi. E poi, cronaca, Pescara, un chilo di cocaina nell'auto, arrestato albanese dalla Guardia di Finanza, e poi sempre Pescara, un comitato per il no alla nascita del super comune, documento bipartisan, di politici e accademici, una scelta di cui ci pentiremo. E poi vedete la foto, qui nella parte taglio centrale della pagina, Roccaraso e Ovindoli, si scia, arrivata la neve, dunque è iniziata la stagione sciistica. Vediamo anche in alto altri richiami di notizie che troveremo all'interno del giornale, intanto il calcio serie D, ammutinamento l'Aquila, anche Iboio, lascia la squadra, e poi lirica giovedì, scusate, Giove a Pompei, l'opera in scena al Marrucino, dopo un secolo. E poi Teramo, le conseguenze della crisi, niente venti per le feste, saltano pure i tiro mancino, e poi l'articolo di fondo della prima pagina ci porta a Lanciano, l'albero di Lanciano, fatto con i bancali. Andiamo a vedere, infine, per quanto riguarda le prime pagine, quella del quotidiano della provincia di Teramo, la città, chiedeva sesso in cambio di eroina, 65 anni, approfittato per anni di madre e figlia, minorenne, ora sarà processato. Poi vedete, il ditaglio laterale, la caduta di Brucchi, il PD mette sotto accusa il modello Teramo. E poi, il rito del fuoco, siamo ad Atri, la notte dei Faugni, riaccende, la tradizione millenaria. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani della nostra regione, possiamo andare a vedere, invece, i quotidiani nazionali, e dunque l'edicola, con i principali giornali in edicola. Oggi partiamo dalla Repubblica, ius soli, sia la legge contro i fascismi, blitz, ieri di Forza Nuova sotto la sede di Repubblica a Roma, state con gli immigrati, sarà guerra, interviene anche il ministro degli interni Miniti, fermeremo chi attacca, le idee e la libertà di stampa, vedete in alto la foto, con il blitz, ieri alcuni esponenti di Forza Nuova, tra l'altro mascherati, sotto la sede di Repubblica, e poi in basso, invece, un'altra foto, con una classe multietnica a Bologna. Siamo al quotidiano la stampa, donne meno violenze, ma più gravi, Time in Corona, persona dell'anno, chi ha denunciato le molestie. E poi, l'ira degli arabi contro Trump, sarà l'inferno, il leader dell'ANP, dice, rischiamo la guerra, il presidente, ora il negoziato di pace, dunque, animi molto tesi, dopo il riconoscimento da parte degli Stati Uniti di Gerusalemme come capitale di Israele. E poi, una notizia che riguarda tutti gli automobilisti, e dunque tutti noi, multa doppia, chiusa il telefonino in auto, emendamenti alla manovra approvati in commissione, arriva il seggiolino anti-abbandono. e siamo al tempo, giudici, liberate il mio Marcello, scrive al quotidiano romano la moglie di Dell'Utri, mio marito è gravissimo, non può restare in cella, l'ex senatore rischia la vita, dovesse accadergli qualcosa, chi sarà responsabile? E poi, il gran rifiuto, quello di Liguori, Paolo Liguori, direttore del TG Com24, che dice no all'offerta del Cavaliere, non si candiderà come presidente per la regione Lazio. Siamo al messaggero, Gerusalemme tutti contro Trump, la Casa Bianca conferma, la città santa è la capitale di Israele, trasferiremo subito l'ambasciata, condanna di ONU, Unione Europea, paesi islamici in rivolta, Hamas, si spalancheranno, dicono gli esponenti di Hamas, le porte dell'inferno. E poi, la protesta fuori legge dei Pullman, che mette in ginocchio i romani, bus turistici contro le nuove regole, Cassese, sciopero illegittimo. E poi, la politica, politica nazionale, Alfano e Pisapia, il passo indietro, che spiazza Renzi. Il ministro, ovvero Alfano, dice non mi ricandido, alternativa popolare sempre più spaccata, lascia anche l'ex sindaco, impossibile l'accordo con il partito democratico. Siamo al Corriere della Sera, Trump isolato su Gerusalemme, vedete Trump con il documento che riconosce Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele. E poi, la politica di fianco, Pisapia e Alfano lasciano Renzi, salta la coalizione, accordo impossibile. E poi, il fatto quotidiano, l'hanno rimasto solo, questo è il titolo che gioca sul fatto che Pisapia e Alfano si ritirano o comunque non si candideranno alle prossime politiche, un colpo pesante per l'alleanza con il centro-sinistro, ovvero con Renzi. Siamo al manifesto, il PD perde la stampella, Pisapia rinuncia, abbiamo visto anche sugli altri quotidiani, non si ricandida neanche l'attuale ministro degli esteri Alfano. E poi, la foto di centro-pagina, il pacifista, Trump insiste, Gerusalemme capitale di Israele, calpestando legalità internazionale, diritti dei palestinesi, la storia stessa della città santa, magnifico tributo alla pace, secondo Trump, il mondo condanna. Siamo al quotidiano La Verità, giallo sul tesoro di boschi in Honduras, ecco il documento che pubblica il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro in mano agli inquirenti, fondo di 6 miliardi di euro in Centroamerica a disposizione del padre del sottosegretario. Parla la figlia, ovvero Maria Elena Boschi, un falso, un tentativo di ricatto per stabilirlo. Sarebbe servita un'arrogatoria internazionale che non è mai stata fatta. E poi, c'è un'intervista a Giorgia Meloni che dice Casini scelto per insabbiare la verità sui crack bancari. Dunque, critiche al presidente della commissione di inchiesta sulle banche, ovvero Pierferdinando Casini. Siamo al secolo XIX, il quotidiano di Genova. Carige torna il sereno, ok, all'aumento ai 377 milioni raccolti. Si aggiungerà l'asta già coperta, la spinta del mercato. E poi, siamo al quotidiano della CEI a venire. vero fine vita d'Italia, aumentano i morti per il 2017. Si stimano 48 mila decessi in più, sotto accuse ai sistemi sanitario e di welfare, incapaci di garantire adeguata assistenza. E al Senato si accederà sul fine vita, voto finale, già il 14. E poi, rischio povertà per 18 milioni di italiani. Paese spaccato, i redditi su, ma anche le diseguaglianze. E poi, passi da Dio in politica, via Alfano, resa di Pisapia, il leader di Alternativa Popolare non si ricandiderà, l'ex sindaco rinuncia, intesa impossibile con il Partito Democratico. Siamo al sole 24 ore, pagelle fiscali rinviate, restano gli studi di settore, emendamento del Governo per posticipare al 2019 il debutto per un milione di partite IVA. L'ultimo giornale è il sole 24 ore che prendiamo in esame per quanto concerne l'edicola nazionale. Possiamo tornare ai giornali locali, ripartire dal centro, da pagina 2 dove si parla del centro commerciale della vicenda di Megalo 2, Regione e Comune. Stop a Megalo 2. D'Alfonso chiede l'intervento del Genio Civile, l'assessorato all'urbanistica di Chieti diffida la società a iniziare i lavori. Il Governatore chiede che venga seguita la decisione del Comitato Regionale Via del marzo 2017 con le prescrizioni sulle opere di messa in sicurezza idraulica. Il progetto prevede a lavori ultimati l'apertura di sette edifici commerciali circondati da parcheggi e verde su una superficie complessiva di 30.000 metri quadrati. E poi cambiando argomento interventi post terremoto 40 milioni di euro per la viabilità in 18 comuni della nostra Regione. E poi bilancio di previsione 6 miliardi di entrate nel 2018 la Giunta dice sì allo schema e poi il processo sui tetti di spesa della sanità verso la prescrizione prossima udienza programmata per l'11 aprile tra gli imputati l'ex presidente della Regione Gianni Chiodi e poi opere per la messa in sicurezza si parla di autostrade autostrade sbloccate quei 57 milioni lo chiede Ramadori amministratore delegato di strada dei parchi senza i fondi chiuderemo i cantieri il nodo degli emendamenti alla legge di bilancio e poi programmi dell'Unione Europea Regione poco trasparente l'accusa delle associazioni d'impresa ma il direttore dell'ente ribatte ecco tutti i numeri in basso si parla di tirocini nei comuni per 70 disoccupati e poi il centro di ricerca unico d'Abruzzo il Crua si tratta per evitare i licenziamenti siamo ancora alla cronaca della nostra regione tutti sulla neve parte la stagione sciistica l'Abruzzo punta in alto oggi a Roccarasso l'inaugurazione di due cabinovie in arrivo il ministro dello sport e del turismo Luca Lotti e sul Gran Sasso è corsa contro il tempo a Campo Imperatore si lavora per la sostituzione della seggiovia delle Fontari e poi Ovindoli Monte Magnolia impianti piste illuminate niente più file guardando al futuro prorogati fino a domenica gli sconti sugli stagionali Under 13 si prevede un grande afflusso per il ponte Telimmacolata e dunque grazie alle basse temperature e alla neve degli ultimi giorni delle ultime settimane inizia dunque regolarmente la stagione sciistica Maielletta sulle piste vista mare impianti aperti da domani dunque si scierà anche sulla Maielletta e a Pietracamela feste natalizie obiettivo pienone ecco i programmi della società Gran Sasso Terramano e del Comune dunque neve in tutti i comprensori sciistici della nostra regione a proposito di neve ma soprattutto di ghiaccio aere e ghiaccio ritardi per 15 giorni ieri altre due ore di attesa sul volo per Bergamo parliamo dell'aeroporto di Pescara la saga dice è un'eventualità ma non dipende da noi controllate le partenze lo scalo è sicuro sì al certificato di conversione ma i passeggeri possono farsi risarcire l'avvocato pescarese Edno Gargano esperto in materia spiega i casi in cui è possibile rivalersi sulla compagnia aerea siamo ancora nell'area metropolitana di Pescara in questo caso ci spostiamo a Francavilla braccio di ferro sugli impianti sportivi lite per la piscina arrivano i carabinieri dopo il caos sugli ingressi alle naidi la diatriba per la gestione della struttura Francavilla registra una nuova puntata sicurezza in classe controlli in altre 15 scuole sulla vulnerabilità sismica il Comune ha annunciato un secondo lotto di interventi per 300 mila euro Cuzzi assessore all'edilizia scolastica dice stanno partendo i lavori dove gli studi hanno evidenziato la necessità vediamo l'elenco delle scuole da controllare le scuole sono quelle di via Regina Margherita via Tirino Fontanelle via Strada del Palazzo via Regina Elena via del Concilio via Militegnoto via del Santuario via Anelli e poi via Scarfoglio via Collepineta via Carlo Alberto dalla Chiesa via Torino via Valle San Mauro e via Colle innamorati parliamo di rifiuti perché ogni giorno vengono abbandonati a Pescara 50 elettrodomestici proliferano ovunque le discariche abusive attiva rimedia ma il caso finirà in commissione ambiente vedete in queste foto quanti rifiuti vengono abbandonati anche rifiuti ingombranti in città a Pescara restiamo a Pescara centro storico a gennaio i lavori di pavimentazione d'accordo con gli operatori di Pescara Vecchia l'intervento slitta dopo le feste sollecitate la pedonalizzazione e l'introduzione di alcuni elementi di arredo dunque dopo le feste partiranno i lavori i lavori anche da oggi in via Celommi che chiude per appunto i lavori che verranno eseguiti per sopperire diciamo al problema allagamenti e poi meccatronica Napoleone al timone nominato presidente nell'assemblea di sezione di Confindustria Chieti Pescara andiamo avanti siamo la notizia della scomparsa del professor Pino Sorgi l'ex docente universitario di filosofia politica si è sentito male mentre era in casa oggi si terranno i funerali a Teramo e poi cambiando argomento cambio al vertice del sindacato a Pescara il nuovo segretario della CGL di Pescara è Luca Ondifero e poi un'altra scomparsa a Pescara addio da Tiglio Gentile punto di riferimento della zona nord del capoluogo Adriatico e poi la street art di Milo entra all'università l'artista ed ex studente della facoltà pescarese ospite della tavola rotonda con gli studenti ricorderete forse alcuni di voi ricorderanno l'opera d'arte di Milo che è stata completata poche settimane fa proprio nella zona di Fontanelle la facciata di una palazzina di Fontanelle poi siamo alle stelle di Natale dell'Aile per sostenere la ricerca a Pescara si rinnova anche quest'anno il tradizionale appuntamento con la solidarietà ecco dove sarà possibile acquistare le piantine da domani a domenica e poi a Spoltore sfida di improvvisazione teatrale dopo aver battuto siena i pescaresi affrontano Reggio Emilia e poi a Dricesta canzoni al porto turistico per aiutare pediatria sabato ci sarà la cena spettacolo tante le iniziative di beneficenza nel periodo prenatalizio oggi a Francavilla ci sarà la presentazione del libro di Valerio Ivo Montanaro anche in questo caso i fondi raccolti saranno devoluti per beneficenza e poi la rabbia diventa un laboratorio teatrale sabato alla scuola Artis si terrà a Pescara questa ci sarà questo progetto che verrà presentato andiamo ancora avanti siamo alla pagina di Montesilvano del centro si parla di grande città della nuova Pescara e c'è la mobilitazione perché ci sono diverse voci contrarie ecco il comitato dei prof no alle fusioni a freddo l'iniziativa di un gruppo di docenti intellettuali e amministratori invita ad approfondire la riflessione stop a nuovi assetti di cui potremmo pentirci e intanto a Pescara la commissione statuto avvia le fasi preparatorie per la nuova Pescara e la Silvetti attacca i consiglieri di Forza Italia favorevoli al progetto siamo in questo caso a Montesilvano spostandoci a Spoltore comune Arco Club accordo per bonificare il torrione di Spoltore che vedete nella foto andiamo ancora avanti siamo a Montesilvano sempre in alto la cronaca furti e droga un arresto e quattro denunce da parte dei carabinieri del comando provinciale di Pescara e poi Corriere nella rete dei finanzieri con un chilo di cocaina Spoltore un'altra operazione delle fiamme gialle assegno a ridosso delle feste arrestato cittadino albanese di 24 anni e poi a Montesilvano politica in questo caso il movimento 5 stelle attacca la giunta comunale mai realizzati i lavori previsti otto mesi fa siamo sempre a Montesilvano Magia del Natale tra arte musica e presepi Maragno e la giunta presentano il cartellone degli eventi nella città già vestita a festa con le luminarie e poi ci spostiamo a città Sant'Angelo traffico e smog un incontro pubblico per parlare appunto delle problematiche della città angolana siamo ancora a Francavilla Torretta in piazza Sirena scatta il vincolo artistico il ministero accoglie la richiesta di tre progettisti e riconosce il diritto d'autore in bilico il concorso di idee il 15 dicembre apre intanto l'auditorium ci spostiamo a San Giovanni Teatino stadio in ordine domenica si giocherà regolarmente proprio a San Giovanni Teatino la gara di campionato il campionato regionale di eccellenza fra il San Buceto e la capolista del torneo il Real Giulianova siamo alla pagina della provincia di Pescara della Val Pescara e dell'area Vestina partiamo da Caramanico terreni di montagna e parte proprio da Caramanico una proposta di legge il comune promotore infatti del recupero delle aree abbandonate per riunirle e svilupparle anche in termini di prevenzione e poi Bolognano domani alle 10 i funerali del piccolo Luca scomparso nei giorni scorsi all'ospedale Maier di Firenze e poi in basso ci spostiamo a Torre dei Passeri di scuole sicure c'è anche la media Manzi sono in via di ultimazione i lavori da 272 mila euro per l'adeguamento degli infissi Loreto Aprutino cani abbandonati SOS alla ASL infine Letto Manoppello nella scuola nell'ex scuola elementare arriva l'accademia musicale siamo alla pagina di Chieti inchiesta sulle essenzioni bollo non pagato indagati 52 furbetti tra l'altro più tardi vedremo anche un servizio su questa operazione della Guardia di Finanza per anni non segnalano la morte dei disabili beneficiari ed evadono la tassa ora scattano le denunce 170 mila euro di multa e in basso truffa alle assicurazioni 7 nei guai pena di 9 anni per 2 ortonesi accusati anche di usura ed estorsioni 20 mila euro di danni alle compagnie in basso estorsioni 5 condanne per 23 anni vasto pene da 6 a 7 anni a Pasqualone Zini e Fiore accuse prescritte per 11 4 le persone assolte siamo alla pagina dell'Aquila del centro Avezzano caos dopo il ribaltone elettorale serature cambiate scatta l'inchiesta approda infatti in procura lo sfratto dal comune dell'ex sindaco di Pangrazio stanze chiuse quando era ufficialmente in carica e poi la cronaca picchia la compagna incinta arrestato blitz della squadra volante della polizia dell'Aquila a Monticchio l'accusa le aggressioni davanti ai figli e poi Abruzzo chiama Europa atto conclusivo il sottosegretario la presidenza del consiglio Sandro Gozzi oggi spiegherà come la regione Abruzzo potrà puntare su innovazione e crescita siamo alla pagina di Teramo del centro sesso in cambio di droga a processo l'accusa mamma e figlia violentate per anni dallo spacciatore l'uomo in carcere dopo la denuncia della donna e poi prosciolto per la marihuana terapeutica Teramano sulla sedia a rotelle indagato perché in casa aveva una serra unico rimedio contro il dolore abbiamo esaurito le pagine che riguardano la cronaca dalle province del centro allora possiamo fermarci per qualche istante andare a vedere insieme le provisioni del tempo per le prossime ore anche per il weekend il ponte dell'8 dicembre poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 seconda parte di mattino 6 abbiamo esaurito la lettura delle pagine del quotidiano il centro siamo al messaggero pagina di cronaca regionale 8 dicembre sugli sci anche sul messaggero si parla dell'inizio del primo weekend della partenza dunque della stagione sciistica taglio del nastro nel primo weekend stagionale sulla neve il ministro Lotti questa mattina a Roccaraso per inaugurare la nuovissima cabinovia senza barriere architettoniche e poi andiamo a centropagina la regione vuole investire nella cultura nuove norme ed un imperativo fare sistema e poi ZES zona economica speciale la grande chance per un Abruzzo davvero facile questo l'articolo di Stefano Cianciotta presidente dell'osservatorio infrastrutture confassociazioni siamo la pagina di Pescara del messaggero politici accademici c'è chi dice no alla nuova Pescara questo è il titolo che ritroviamo abbiamo visto anche dal centro come ci sono anche delle voci contrarie alla nascita dell'unica grande città che riunirebbe Pescara Spoltore e Montesilvano intorno al documento di Licio di Biase nasce un comitato che punta a frenare la fusione con Montesilvano e Spoltore e intanto partite la discussione in commissione statuto mentre Bollini Rosa Massimo Devoti all'ospedale di Pescara un ospedale a misura di donna in basso siamo ai tetti di spesa alle cliniche nasce morto il processo a chiodi prescrizione in arrivo per l'ex governatore imputati anche Giovanna Baraldi Lanfranco Venturoni e due tecnici dell'Agenas proseguiamo sghiacciamento si vuola solo in sicurezza le parole del direttore generale della Saga società che gestisce l'aeroporto di Pescara Luca Ciarlini che dice se i test non daranno esito positivo continueremo con i ritardi da due giorni gli aerei Ryanair e l'Italia in partenza per Bergamo e Milano rimangono fermi in box a causa del ghiaccio sulle ali e poi Camera del lavoro di Pescara Luca Ondifero nominato nuovo segretario e poi di Pietrantonio sarà un vero mercato etnico si parla delle spine della politica e del mercatino etnico a tal proposito ieri noi abbiamo ascoltato abbiamo portato ai nostri microfoni un esponente di Sinistra Italiana il consigliere comunale Ivano Martelli che ha dopo un documento che era stato presentato nei giorni scorsi ha confermato che se non passerà la delibera sul nuovo mercatino etnico in consiglio comunale Sinistra Italiana uscirà dalla maggioranza del comune di Pescara allora se la regia è pronta possiamo andare ad ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato con l'esponente di Sinistra Italiana Ivano Martelli Sinistra Italiana minaccia di uscire dalla maggioranza in consiglio a Pescara Martelli siamo alle solite si continua a dibattere e discutere su questo mercatino lunedì prossimo ci sarà una nuova seduta di consiglio comunale però a questo punto o dentro fuori beh credo proprio di sì ormai sono mesi che questa cosa va avanti troppi mesi e da troppi mesi appunto questi ragazzi queste persone aspettano una soluzione da questa amministrazione che ha promesso che in tempi brevi avrebbe fatto questo mercatino purtroppo il tempo passa e le cose non si vedono le ultime sedute sono andate deserto come tutti voi sapete e questa è una cosa per noi intollerabile ormai e non è più possibile portare avanti in questo modo il consiglio sul mercatino per cui abbiamo posto una questione politica molto seria per cui noi vogliamo che assolutamente venga votato questo mercatino altrimenti Sinistra Italiana non può più far parte di questa maggioranza non è un mistero che in una parte della maggioranza evidentemente non ci sia l'identità di vedute del sindaco e di altri consiglieri questo lo so però il sindaco di questa città si è impegnato con noi ma non solo con noi ma soprattutto con i ragazzi senegalesi con chi comunque quel luogo dovrà occuparlo per cui si è speso e penso che sarà il suo compito tirare le fila e fare in modo che questo avvenga dunque lunedì cosa potrebbe accadere in aula? ma io spero che non accada quello che è accaduto gli scorsi giorni che si possa fare una discussione sappiamo che ci sono diversi emendamenti da parte delle opposizioni siamo lì dobbiamo essere compatti votarli andare avanti fino a quando questa cosa non viene approvata siamo sempre a Pescara la rigenerazione urbana con la cura della street art questo è il tema di Milloland all'adannunzio con la partecipazione di Francesco Giorgino in arte millo la sua opera a Fontanelle ne parlavamo anche prima per lasciare un segno in città e alle persone che contano per me ha detto l'artista e poi cronaca operazione dei carabinieri un arresto e quattro denunce nel pescarese lavori antiallagamenti chiude oggi via Celommi a Pescara andiamo avanti siamo ancora la cronaca di Pescara dell'area metropolitana un chilo di cocaina per i pusher di Natale la droga sequestrata dalle fiamme gialle nell'auto guidata da un corriere albanese e poi Loreto Prutino una cavalla abbandonata in giardino salvata dai carabinieri forestali in basso cura Lega Cop per il cratere sismico aiuti alle nuove imprese e poi Bolognano domani l'addio a Luca il bimbo scomparso all'ospedale pediatrico Maier di Firenze in basso Montesilvano la bellezza perduta dei pini fino alla riviera del mare nella foto che salta fuori da un cassetto un paesaggio d'incanto appena minacciato dei primi grandi alberghi vedete questa foto con il viale della riviera di Montesilvano risalente ai primi anni sessanta siamo all'Aquila laboratorio analisi un piano per evitare code di servizi la ASL vara una nuova logistica e pensa ad aumentare il personale e il ritiro dei referti attraverso la rete utilizzato dal 46% dell'utenza e poi con le maggio il 20 dicembre potrebbe riaprire la basilica ferita vedete il titolo che è nel taglio laterale della pagina dunque il simbolo dell'Aquila potrebbe riaprire proprio qualche giorno prima del Natale e poi Monticchio cronaca botte alla convivente incinta rumeno in manette poi PD si vota il 17 cialente troppa fretta in basso sottanelli sede nel capoluogo per la banca del Gran Sasso lo chiede il parlamentare abruzzese e poi ufficio ricostruzione della BPR a Modena la Fabi esprime preoccupazione andiamo ancora avanti siamo ancora all'Aquila uffici pubblici e militari ok l'intesa firmato l'accordo tra Ministero della Difesa De Manio e Denti a San Bernardino andranno carabinieri Mibact e Archivio e poi nuovo codice personale appalti in crisi sindaco dell'Aquila auspica sinergie per sbloccare questo comparto ramadori e pezzo pane contro lo stop ai cantieri si parla delle autostrade abruzzesi quante nuove scosse dovremo aspettare per capire che questa zona è ad alto rischio e poi Tombola Agnesina ecco i 99 personaggi della Tombola Aquilana e poi un convegno a Rocca di Mezzo montagne sotto stress ci sarà appunto questo convegno per parlare dello stato di salute delle nostre montagne andiamo avanti per arrivare alla pagina di Avezzano e di Sulmona truffò 16 carabinieri arriva sotto accusa nei guai un amministratore di condominio infedele si impossessò di 17 mila euro pagati dai militari per bollette e manutenzione poi Avezzano tribunali di Pangrazio accelera sulla commissione poi ancora nella città marsicana comitato comunale Udc nella lista pure due arbitri ci spostiamo a Sulmona gestione dei rifiuti Coggesa lascia Prato-La Peligna e poi ancora Sulmona esami di medicina nucleare la ASL rassicura infine Barrea variante al piano regolatore la provincia esprime parere favorevole siamo alla pagina di Chieti del messaggero la cronaca presi 52 furbetti del bollo auto sfruttate esenzioni dei morti maxi operazione della guardia di finanza in 16 nei guai per sostituzione di persona hanno continuato a non pagare la tassa anche dopo il decesso del parente disabile ieri c'è stata presso la sede del comando provinciale della guardia di finanza di Chieti la conferenza stampa per illustrare questa operazione possiamo andare a vedere insieme il servizio smascherati dai baschi verdi del comando provinciale della guardia di finanza di Chieti furbetti del bollo auto nell'operazione bollabile le persone coinvolte fruivano infatti dell'esenzione per il pagamento del bollo auto previsto dalla legge 104 del 92 ma il disabile a cui era intestato il mezzo era deceduto da anni nell'operazione della finanza teatina sono stati segnalati 52 soggetti ed accertate violazioni per oltre 170 mila euro abbiamo svolto abbiamo svolto un'indagine a tappeto riguardante tutta la provincia di Chieti che si è focalizzata sulle persone che legittimamente risultavano affette da patologie gravi di invalidanti o da disabilità motoria e come tali quindi legittimate ad essere esenti dal pagamento del bollo auto così come previsto dalla legge ci siamo accorti che 700 di queste persone risultavano decedute per 228 posizioni di queste 700 abbiamo visto che era stata omessa la prescritta comunicazione di variazione abbiamo quindi avviato immediatamente controlli sui soggetti che risultavano avere intestato macchine ancora in circolazione quindi anche con contratti assicurativi attualmente validi e vigenti erano macchine intestate a persone che nel frattempo erano decedute e che quindi i legittimi e i usuari non avessero più il diritto a beneficiare di questa estensione del bollo auto abbiamo contestato a sanzioni per 170 mila euro abbiamo recuperato circa 150 mila euro di omesso pagamento del tributo che va alla regione Abruzzo e nei casi in cui abbiamo ravvisato delle condotte particolarmente perniciose abbiamo anche operato una segnalazione nei confronti della competente autorità giudiziaria affinché verifichi la sussistenza dei reati di cui al 494 del codice penale sostituzione di persona o al 640 del codice penale quindi truffa questo è il servizio sull'operazione della guardia di finanza di Chieti restiamo nel capoluogo teatino l'asl non paga la cooperativa azzurra 170 famiglie senza stipendio l'azienda sanitaria deve versare 5 milioni di euro per i lavoratori è scattato il licenziamento ancora cronaca estorsione rapina in villa un teatino finisce in carcere poi al marrucino fratta mette in scena giove a Pompei domenica alle 17.30 l'ultimo appuntamento della lirica a gennaio il via al bicentenario siamo alla pagina di Lanciano Vastortona Sevel inedito stop dalla Cassazione questo è il titolo di apertura di pagina 53 i giudici reintegrano un metalmeccanico licenziato dall'azienda chi assiste un disabile di notte ha poi il diritto di riposarsi la legge non prevede che ci siano orari per assistere un familiare con gravi disabilità basta essere presenti anche solo di sera e dunque questa è la sentenza della Cassazione vasto corso universitario per infermieri taglio del nastro nella nuova sede e poi uccise la moglie e l'amica decisiva la perizia su Marfisi poi San Vito Chietino scarichi abusivi sequestrato un frantoio e poi Lanciano feste natalizie gli eventi in centro e poi l'alberghiero di Villa Santa Maria Bullismo ma è una scuola prestigiosa questo l'articolo che riguarda appunto l'alberghiero di Villa Santa Maria siamo a Teramo Natale e Capodanno saltano tutti gli eventi nel capologo di provincia annullato il concerto di Tiro Mancino che era previsto per la notte di San Silvestro Topitti la programmazione andava fatta prima la di Pasquale recupereremo la voglia ovviamente tutto questo dopo la caduta bisogna dirlo della giunta Brucchi ovviamente arriverà ora un commissario prefettizio e poi cronaca si finge a carabiniere per truffare un'anziana napoletano arrestato raggirata un'ottantenne facendole credere che la figlia era nei guai e poi la sanità teramana in lutto si è spento il primario Dante di Gianmartino in basso la viabilità arrivano i fondi per risanare le strade a pezzi andiamo avanti pagina di Giulianova e del litorale Teramano calendario tra conferme ed eventi tagliati siamo a Giulianova il sindaco ha presentato 20 eventi con uno stanziamento che sfiora i 40.000 euro grazie ad una modifica di bilancio e poi ancora Giulianova ha sequestrato un altro pezzo dell'auto dei Santoleri e poi ancora nella cittadina adriatica consorzio Lido delle Palme si è dimesso il presidente di Saverio ci spostiamo in Val Vibrata migranti in arrivo triplicati rispetto alle previsioni del piano di accoglienza e poi ancora in Val Vibrata madre e figlia violentate dal pusher siamo le pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere prima di passare allo sport le pagine interne del quotidiano la città siamo a pagina 3 cronaca regionale tetti di spesa si corre verso la prescrizione iniziato ieri il processo che vede imputati anche chiodi e venturoni ma i tempi per la sentenza sono stretti e poi consiglio regionale su esperimento Sox e emergenza neve si terrà martedì prossimo andiamo avanti per andare a vedere la pagina una delle pagine che riguardano la cronaca di Teramo la caduta del sindaco il PD mette sotto accusa il modello Teramo stracci volati divisioni personalismi democratici si dicono pronti a candidarsi come alternativa e poi in basso la passionaria Brucchiana si scusa con Luca Boschi il fotografo incassa anche la solidarietà del consigliere regionale D'Ignazio dopo gli insulti omofobi Milton sporto querela contro Ciarroni il diverbio di fine consigliatura tra presidente del consiglio e segretario del sindaco avrà uno strascico di fronte Milton di Sabatino e Vinicio Ciarroni strada dei parchi inammissibile lo stop ai cantieri dei viadotti protesta contro lo stop ai fondi europei per la sicurezza e poi abbiamo visto anche dal centro dal messaggero il lutto nella sanità teramana addio al dottor Dante Di Giammartino l'ex primario di malattie infettive si è spento a 66 anni per un male incurabile oggi i funerali in cattedrale e lutto anche nel mondo accademico per la scomparsa del professor Pino Sorgi andiamo avanti la cronaca anziano raggirato con la truffa del carabiniere crede la figlia a processo e sgancia 4.000 euro per evitarglielo la polizia identifica e arresta l'estorsore poi si annicolò l'arte della cucina a teramo dedicata al territorio proseguiamo ancora cronaca molesti il maestro di musica va a processo 50enne accusato da una 13enne di palpeggiamenti durante le elezioni private proseguiamo pioggia di milioni sulle strade provinciali la provincia inizia i primi lavori del dopo terremoto la regione annuncia altri 31 milioni di fondi ne ha parlato ieri il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso oltre 40 milioni di euro in arrivo per le strade delle province possiamo andare a vedere il servizio un investimento complessivo di 40 milioni di euro finanziato con fondi statali per 65 interventi di ripristino della viabilità provinciale comunale nei centri del cratere sismico 2016-2017 il piano è stato illustrato questa mattina a Pescara dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso che ha sottolineato come tutti i lavori saranno gestiti direttamente dall'ANAS nonostante riguardino strade di non diretta competenza dell'ente una scelta legata soprattutto alle difficoltà che le province potrebbero incontrare nella gestione degli iter burocratici delle opere abbiamo portato a casa qualcosa come 80 milioni di euro aggiuntivi questo è il terzo piano stralcio che noi facciamo per quanto riguarda la viabilità e abbiamo portato a casa interventi rilevantissimi a Civitella del Tronto che è stata rasa al suolo anche in ragione di una frana sismo indotta abbiamo portato a casa interventi in molti comuni del Terramano Tossicia Castelcastagna Torricella Sicura Cortino abbiamo portato a casa interventi a Isola del Gran Sasso e Colledara a Terramo Città l'importante ponte e mi dispiace che lì non ci sia un sindaco adesso abbiamo portato a casa interventi in provincia dell'Aquila nell'Alta Valle della Terno sulla SP16 abbiamo portato a casa interventi a Rocca Morice per il rischio caduta massi a Castiglione a Casauria per il ponte storico che ha quasi 100 anni di storia abbiamo portato a casa interventi importanti per quanto riguarda Vicoli dove la viabilità è stata interrotta dopo le sollecitazioni sismiche e anche le avversità del maltempo ecco il servizio abbiamo appena visto con la conferenza stampa del Presidente della Giunta Regionale su questi fondi destinati alla manutenzione delle strade delle nostre province andiamo avanti pagina 12 del quotidiano la città Enel controlla cavi e tralicci in vista della neve l'elicottero con l'occhio elettronico sta cercando eventuali guasti lungo le linee della provincia e poi il riconoscimento per il Parco del Nazionale del Gran Sasso a Bruxelles per la certificazione europea vedete nella foto il Presidente del Parco Tommaso Navarra andiamo ancora avanti la cronaca siamo in Val Vibrata a Corropoli sesso in cambio di droga 65enne a processo e poi alba triatica vigili armati nei luoghi sensibili infine Nereto in basso un polo dei servizi per la Val Vibrata questa mattina il taglio del nastro nell'ex Pretura sequestrato il parafango dell'auto dei Santoleri il giallo della pittrice scomparsa sarà confrontato con un pezzo di plastica trovato nella scarpata di Tolentino la pittrice scomparsa Renata Rapposelli andiamo ancora avanti in basso ci spostiamo a Giulianova eventi natalizi Mastromauro annuncia il sindaco di Giulianova il cartellone più bello della costa perseguitata con 80 telefonate al giorno stalking siamo a Roseto Rosetana trascinata in un incubo dall'ex che non accettava la fine della loro relazione il 33enne avrebbe minacciato anche gli amici di lei e avrebbe aggredito la ex con calci e pugni siamo a Silvile con Alpa contesta la gestione dei pini storici mentre tornando a Roseto via ai lavori per il campo di Santa Lucia ancora a Roseto rimpolpata la polizia municipale rosetana pronte tre assunzioni e la nomina di un nuovo comandante il sindaco le vicende giudiziari non c'entrano ha detto il primo cittadino di Roseto Sabatino di Girolamo e poi Pineto torna anche quest'anno la pista sul ghiaccio e tornando invece ancora una volta a Roseto il sindaco il primo cittadino ancora a Sabatino di Girolamo accelera sulla riduzione tari la possibilità la possibilità scusate di diminuire la tariffa già nel 2018 al centro dell'ultima riunione di maggioranza siamo arrivati alla pagina che riguarda una delle pagine che riguarda la cultura uno degli eventi più attesi in questi giorni ad Atri si riaccende infatti la notte dei faugni al via da questa sera per tutta la notte il tradizionale rito delle canne infuocate dedicato al dio fauno ad attendere l'alba con i cittadini ci saranno l'attore Carmine Buschini e i Modena City Rambles e dunque una nottata di festa per la città atriana siamo allo sport invece per parlare del terramo in questo caso Milillo vince il ballottaggio per sostituire Caidi il gigante scuola pescara dovrebbe formare il terzetto con Speranza e Sales Tulli alla febbre ma ci sarà e poi ancora calcio si parla del San Nicolò che si rinforza arriva infatti bontà a centrocampo ufficiale la cessione di Sassarini a Chieti lasciamo il quotidiano la città andiamo a vedere lo sport dalle pagine del centro e del messaggero anzi facciamo un passo indietro andiamo a vedere prima le pagine dello sport nazionale dunque dai quotidiani sportivi nazionali partiamo dalla gazzetta dello sport Allegri al Max le sue squadre tra le 16 big per l'ottava volta Allegri e Mister Europa e poi Spalletti al gioco delle due torri Inter con Vesino più Gagliardini e ci sono notizie non positive per il Milan perché l'UEFA dice no al piano della società rossonera salta il voluntary agreement brutto colpo per la società rossonera che oltre al danno di immagine rischia sanzioni in vista dell'eventuale partecipazione alle coppe e a proposito di coppe addio alla Champions del Napoli niente miracolo per gli azzurri l'Italia va avanti con il 2 più 4 lo Shakhtar vince il Napoli va a KO col Feyenoord e dunque parteciperà all'Europa League andiamo a vedere anche il Corriere dello Sport in alto l'UEFA boccia il piano Milan multa e vincoli al mercato domani il verdetto di Nyon e poi rimpianto Napoli Champions gli azzurri fuori battuti dal Feyenoord infine tutto sport Juventini più allegri dopo la conquista degli ottavi di Champions è partito l'appello del tecnico bianconero ai tifosi basta con tutta questa negatività sulla nostra avventura europea si sono perse tante finali ma noi almeno ha detto allegri le abbiamo giocate lasciamo dunque i quotidiani sportivi nazionali possiamo tornare alle pagine dello sport che riguardano le nostre squadre le discipline sportive che più ci interessano partiamo dal Pescara perché quella di oggi è la giornata di vigilia della gara di campionato Pescara Mancuso e Benali alla ricerca del gol perduto l'ex San Benedettese Mancuso non segna dello scorso 21 ottobre il 25enne libico addirittura da due mesi ma domani a Cesena Zeman dovrebbe confermarli nel tridente con Pettinari come detto domani sera si giocherà alle 18 la gara tra Cesena e Pescara vedete in questo specchietto del quotidiano il centro la diciamo la sfida i raggi X con Cesena e Pescara 18 punti per i romagnoli 21 per il Pescara 4 vittorie per i bianconeri e 5 per i biancazzurri 6 pareggi per parte 7 sconfitte per il Cesena 6 per il Pescara entrambe le squadre hanno totalizzato 13 punti in casa il Cesena fuori casa ha raccolto 5 punti il Pescara 8 27 gol fatti dal Cesena 28 dal Pescara 32 le reti subite dal Cesena 32 dal Pescara miglior marcatore Pettinari 11 gol per il Pescara Yalov 7 reti per il Cesena questi numeri diciamo più importanti di questa sfida delicatissima per il Pescara che non potrà assolutamente ottenere un risultato negativo vediamo a proposito il quadro completo della diciottesima giornata alcune gare si giocheranno domani altre si giocheranno sabato alle 15 vediamo il quadro completo Ascoli Virtus Centella Bari Palermo Cesena Pescara dirigerà Nasca di Bari Cittadella Vellino Empoli Carpi Frosinone Brescia Novara Cremonese Salernitana Perugia Spezia Foggia Ternana Parma Venezia Provercelli prossimo turno domenica prossima il Pescara è dunque non sabato Pescara giocherà domenica 17 dicembre alle 17.30 allo stadio Adriatico con il Novara vediamo altre notizie che riguardano la sfida Cesena Pescara in casa Romagnola dovrebbe giocare Laribi alle spalle di Elov nel 4-4-1-1 ne ricordiamo che nella formazione bianconera non ci sono delle assenze importanti non c'è Cupiz il forte difensore che è stato squalificato squalificato anche l'attaccante Cacia andiamo a vedere altre notizie che riguardano il Pescara anzi l'intervista che il centro ha fatto al tecnico del Cesena Fabrizio Castori che molti di voi ricorderanno è stato anche allenatore del Lanciano ritmo e velocità Zeman è un maestro il tecnico dei bianconeri condivido la sua cultura del lavoro e so che ci aspetta una gara durissima ha detto Castori siamo alla serie 10 il Teramo Zauly ho sbagliato ad accettare Teramo ma non porto rancore il tecnico della passata stagione ora guida l'Empoli primavera il Fano in ripresa però i biancorossi sono in buone mani e noi a proposito dei biancorossi andiamo a vedere il servizio che fa un po' le carte alla sfida con il Fano Riccardo non è andata benissimo a non giocare in questo ultimo weekend perché le avversarie dirette hanno vinto comunque pareggiato e quindi assumono una maggiore importanza ancora di più la gara di sabato prossimo contro il Fano Sì abbiamo avuto questo turno di riposo tra virgolette visto l'esclusione del Modena le dirette concorrenti hanno guadagnato qualcosina il Sant'Arcangelo un punto il Fano tre punti però diciamo che noi dobbiamo pensare a noi come spirito di squadra come gruppo dobbiamo pensare a noi lavorare a testa bassa e mettercela tutta per questa partita che vale sei punti secondo me Salvezza passa in casa soprattutto due sconfitte nelle ultime due gare interne c'è anche un po' con la voglia di rivincita tra le mura amiche Sì certo c'è la voglia di rivincita tra le mura amiche soprattutto anche per il pubblico che ci ha sempre sostenuto quindi adesso come lavoriamo tutta settimana bene e con la voglia di vincere perché questa partita è fondamentale Gli occhi di molti sono sul reparto avanzato che ha qualche difficoltà di troppo nel segnare tu cosa rispondi cosa pensi No vabbè è un dato di fatto però adesso anche col mister stiamo lavorando come gruppo tutta la squadra perché è sempre facile accusare magari il singolo o il reparto invece secondo me come lavoriamo in gruppo nella fase difensiva partita degli attaccanti dobbiamo lavorare in gruppo per la fase offensiva partita degli difensori e arrivare alla conclusione con gli attaccanti Tre gare prima della sosta ti sei fatto un'idea in un cammino ideale prima della lunga pausa abbiamo due partite in casa e secondo me i punti si devono fare soprattutto in casa e ne abbiamo la possibilità poi abbiamo una trasferta a Reggio Emilia dove dobbiamo anche lì andare con la mentalità giusta con l'atteggiamento giusto e riuscire a strappare qualcosina anche lì quindi più punti possibili prima del Natale Sarà Foggia o Barbuti sabato prossimo? O magari entrambi insieme? Ma chiunque giochi deve entrare in campo per la causa del terramo calcio che è quella di vincere e di raggiungere l'obiettivo poi se gioca Ciro o gioco io è diciamo la stessa cosa dobbiamo entrare tutti e due con lo spirito di pensare al gruppo Siamo alla Serie D sempre dalle pagine del centro il Francavilla si parla di mercato sul russo Bontà e del San Nicolò in Serie D sempre Iboio chiede all'Aquila di andare via d'Avezzano Branicic in uscita con destinazione Prosesto dalla Serie D al calcio a 5 i annascoli il Pescara dopo la gara con il Napoli dice il patron della formazione Bianca Azzura tireremo le somme stagione travagliata il rapporto con la divisione non perdono chi ci ha trattato in quel modo ha detto i annascoli siamo al campionato di eccellenza le big sul mercato il Real Giulianova lascia libero anche Potacqui dopo Aquino il club divorzia dal metodista in partenza anche Barlafante arriverà qualche under il Chieti fa la corte a Miciche per prendere il volo Nero Verdi in pressing sulla punta l'alternativa è Aquino sabato derby speciale per Marchetti e Antignani del River 65 e poi lo spoltore sfiderà i giallorossi la squadra di Ronci si qualifica per la semifinale di Coppa Italia 3 a 2 al Capistrello e poi Maraschio a San Buceto del fino Flacco Porto prende Morris dal Pineto e il Miglianico pensa a Giglio siamo al ciclismo la tre giorni di maggio il giro in Abruzzo va sfruttato per il turismo curiosità e retroscena raccontati dal fiduciario della RCS società organizzatrice del Giro d'Italia Maurizio Formichetti e poi pallavolo FIPA polemica interna sui tecnici il comitato regionale prende le distanze dalle nomine fatte da Roma e siamo al basket Roseto si inchina nel recupero di Trieste si inchina allo strapotere della capolista Giuliana 82 a 63 per il Trieste che aumenta il distacco dalle inseguitrici formazione triestina 20 punti in classifica al primo posto Montegrana rosedici fortitudo Bologna 14 per il Roseto ultimo posto con due punti nel prossimo turno il 10 dicembre Roseto giocherà a Mantua e il campionato di serie B alla UEA non basta l'innesto di Petrovic ottava sconfitta consecutiva per gli ortonesi che perdono per 79 ad 83 in casa con Cerignola questa sera il derby Giulianova Amatori in palio c'è il riscatto vediamo le altre partite delle abruzzesi Teramo giocherà in casa alle 20 e 30 questa sera con la super capolista Sansevero e poi il Campli giocherà invece sempre questa sera alle 21 in casa dei pugliesi del Bisceglie siamo quasi in chiusura andiamo a vedere le pagine dello sport il messaggero serve un filotto di risultati utili Brugman si carica sulle spalle il destino del pescare impegnato a Cesena e parla Augusto Gabriele un pescarese con il cuore cesenate Gabriele è grande il protagonista con il Cesena diverse stagioni fa in basso l'Aquila Amutinamento e via Iboio mancano le garanzie sul pagamento degli stipendi faccia a faccia tra giocatori e società seconda pagina di sport il messaggero Teramo in ansia per Tulli l'attaccante salta l'allenamento in dubbio per la gara con il Fano in serie D l'Avezzano guarda in alto il direttore sportivo Iacovitti restiamo però con i piedi per terra non dobbiamo sbagliare nulla infine la consueta mezza pagina dedicata il giovedì dal messaggero al calcio Wisp Abruzzo con tutti i risultati e le classifiche del campionato provinciale di calcio Wisp Abruzzo di Pescara siamo in chiusura per quanto riguarda l'appuntamento di oggi 7 dicembre con Mattino 6 che tornerà domani puntuale giorno dell'Immacolata sempre alle 8 io ringrazio Maurizio D'Agui in regia e vi rinnovo l'appuntamento vi rimando alla prima edizione del nostro telegiornale come sempre alle 14 grazie e buon proseguimento di giornata a tutti e buon proseguimento e buon proseguimento di giornata e buon proseguimento e buon proseguimento e buon proseguimento grazie a tutti